Villafranca di Verona è pronta ad animarsi, come ogni anno, con tanta buona musica. Nella splendida cornice del castello si esibiranno artisti italiani ed internazionali fra i più amati. Ne parlano ai nostri microfoni Ivano Massignan, direttore artistico di Eventi Verona, seguito da Roberto Dalloca, sindaco di Villafranca, e Claudia Barbera, assessore alla cultura di Villafranca. Puntiamo a riempire il castello il più possibile dopo la pandemia, durante la quale non ci siamo mai fermati comunque, quindi questo è anche un dato molto importante per Villafranca. Sia nel 2020 che nel 2021 noi siamo andati avanti, l'insegna del Villafranca resiste. Quest'anno si sono aperte le possibilità di utilizzare il castello a piena capienza, cercheremo di riempirlo. I concerti di proposti sono importanti, addirittura alcuni sono in esclusiva nazionale, e poi sono un numero consistente di situazioni e di appuntamenti. Noi puntiamo a fare circa 40.000 persone, che non sono poche, un'iniziativa estiva in un comune medio come quello di Villafranca, e pensiamo che tutto questo porti anche un indotto economico molto significativo. C'è troppa roba in giro, questo è il problema, ci sono scatenati tutti, ci sono concerti da tutte le parti, e quindi noi abbiamo puntato a un programma abbastanza originale, il festival Rock, Rock in the Castle è il più importante festival italiano di rock di quel genere. Lord è una data unica, Slipknot è una data unica in Italia, e punta su una tipologia di pubblico che possiamo considerare una nicchia, ma è una nicchia molto qualificata, ci arrivano tutti. Noi abbiamo tutti i dati di provenienza del pubblico, e vengono dalla Finlandia al Portogallo, quindi per non parlare l'Austria, Germania, Francia, ex Jugoslavia, sono tutti quei paesi lì, quindi c'è una cosa molto importante, significativa, che rende onore anche a questa cittadina. Poi vivere i concerti in piena libertà, abbiamo cercato anche negli anni scorsi di dare comunque dei segnali positivi, pur essendo in piena pandemia. Adesso la piena libertà ci permette di vivere la città in pieno e di dare ai turisti che verranno a visitarci un aspetto sicuramente importante e gradevole della nostra città. Un cartellone molto importante, ma significativo, significativo perché vario e soprattutto perché porterà qua a Villafranca persone da tutta Europa. Questo per noi è importante per far conoscere Villafranca al di fuori anche dei confini comunali. Sì, possiamo dire che finalmente Villafranca ritorna a vivere, ritorna alla normalità. Si riappropria del proprio festival, di Rock the Castle, di Villafranca Festival. Il castello, la cornice del castello, ritorna ad avere la massima affluenza e questo per Villafranca è importante perché vuol dire avere la possibilità di attrarre turisti anche a livello internazionale, e portare attraverso la musica, attraverso eventi di questo tipo tante persone nella nostra città, migliaia di persone che vengono da tutta Italia ma anche da tutto il mondo per un programma che è eterogeneo, spazia veramente per tutti i gusti e quindi siamo orgogliosi di presentare un programma così completo con artisti che hanno fatto la storia della musica italiana ma anche internazionale.